Nel corso di questi mesi stiamo incontrando i nuovi consiglieri comunali di Lauria che stanno caratterizzando questa legislatura. Siamo in compagnia di Nicola Schettini che non è nuovo alla politica perché ha fatto già esperienza anche di consiglio comunale, poi ha fatto una riflessione, poi ce lo dirà lui stesso e poi adesso è nuovamente in consiglio comunale, ha dei ruoli anche nelle commissioni, quindi un impegno a tutto tondo chiaramente tenendo conto anche un po' del lavoro che certamente non permette. Ecco, forse un tempo, Nicola possiamo proprio partire da qui, forse un tempo la politica veniva un attimo più considerata, cioè il rappresentante politico riusciva più ad avere del tempo da dedicare alla politica. Adesso è diventato tutto più complicato. Innanzitutto buonasera a tutti e a tere spettatori che ci seguiranno, che ci stanno seguendo. e ringraziare per l'intervista l'amico Mario. In effetti la politica è cambiata, è cambiata la politica ma ahimè io direi un po' in peggio. Io mi ricordo i primi anni che iniziavo ad inserirmi nel mondo della politica, era diverso, c'era più stimolo, c'era più voglia di scendere in campo, di fare qualcosa per la gente, di confrontarsi con persone che la politica l'hanno masticata nel vero senso della parola, e gente di un certo spessore, quindi ho notato un po' che col passare degli anni, che purtroppo la politica, specie nel nostro paese, sta diventando, diciamo, in secondo piano di come era fatta negli anni dal 2001 fino al 2011. Però, ahimè, perciò per questo io ho avuto parecchie volte dei suggerimenti, degli inviti a scendere nel campo politico. Io ho smesso, ho quasi smesso di fare politica perché volevo seguirla da lì dietro, dietro le quinte, però ho visto che, vedendo la situazione come sta andando avanti, ho fatto perché non provarci di nuovo, cercare di scendere insieme alla gente, perché io, a me non è, devo fare carriera politica, io, a me, perché altro è come una, voglio dire, quasi come un hobby, di stare insieme alla gente, perché, di vedere, di cercare di fare qualcosa di buono per il paese, perché a me, io ho avuto pure esperienza fuori, sia nel campo lavorativo che nel campo sociale, e si nota una differenza enorme, ed è un peccato che la laurea deve restare così, deve cercare di, io immagineria una laurea un po' diversa, al centro dell'attenzione, come, diciamo, che geograficamente è messa al centro dell'area, dell'area Lagonegrese, del Mercurio, della Senesese, diciamo, tutta quest'area qua, diciamo che dovrebbe essere il fiore dell'occhiello, poi, anche perché, a maggior ragione, perché Lauria ha goduto sempre di posti di rilievo a livello politico, è stata rappresentata a livello europeo, a livello regionale, a livello provinciale, a livello nazionale, e cosa dire di più? Vorrei che Lauria ritornasse, diciamo, un ritorno al futuro, quello che mi piacerebbe a me, Lauria Bellagrindosa, però è una cosa che mi dispiace, perché la gente, io, parlando sempre del nostro paese, è abituata solo a parlare, parlare, critiche, ma non affrontare nel vero senso la situazione. Quando uno come me, che vengo dal nulla, anche se io non posso fare altro che ringraziare quasi 500 cittadini che nel mio piccolo mi sono, hanno avuto l'onore che mi hanno, hanno messo il mio nome al Comune alle scorse, voglio dire che, di fare in modo che, di collaborare con noi, perché noi siamo, voglio ricordare, noi siamo l'opposizione, e noi dobbiamo essere rappresentanti del popolo, portarlo in consiglio comunale, di collaborare con la maggioranza, quando si collabora, però dovrebbe essere anche viceversa la maggioranza, collaborare con l'opposizione. Io questo sto notando che c'è un po' troppa, troppa, poco collaborazione dalla maggioranza con l'opposizione, e noi cerchiamo aiuto nel popolo. Io, negli anni scorsi, faccio più manifestazioni, la gente mi dice, Nicolo, tu non sei più un Nicolo di una volta, sì, perché a volte l'esperienza insegna, facciamo incontri, invitavamo la gente, perché questo è il nostro ruolo, però la gente poi alla fine non era, parlava solo, poi quando era il momento di scendere in campo, di venire, di essere invitata, non partecipava, e questo mi ramare con un po', però io non mi arrendo, noi e il nostro gruppo non ci arrendiamo, vogliamo cercare di portare avanti il nostro programma, finché possiamo arrivare, faremo di tutto, poi saremo sempre limitati, perché purtroppo non governiamo questo paese, ci sarebbe piaciuto farlo, ma faremo di tutto per fare in modo che magari in futuro, non saremo noi, ma saranno altri Nicola Schettini che potranno governare questo paese. Ecco, la tua attività politica è stata sempre divisa in due parti, è divisa sempre in due parti, cioè una parte più amministrativa, nel senso problemi concreti, ti ricordiamo soprattutto agli inizi della tua carriera, mettere i manifestini sugli alberi, questo attivismo H24, mi viene da dire. E poi, diciamo, la parte più politica dove, insomma, sei stato un esponente importante del centrodestra, lo vogliamo ricordare, spesso si critica un po' il centrodestra di Lauria perché si dice ma non è stato sufficientemente coraggioso, non ha combattuto come doveva. Però ricordiamolo, no? Volendo fare anche un po' una piccola analisi politica, comunque qui vi era e vi è un feudo blindatissimo dove non è facile metterti contro, no? del, diciamo, una situazione che comunque è consolidata da 30 anni, da 40 anni. Ma ci arriviamo a questa, magari, ecco, trattiamola come seconda parte. La prima parte, ci sono delle questioni a cui tu tieni molto, dalla viabilità ai problemi acquedottistici, no? Sono state anche mitiche nel passato le tue battaglie a Codotto Lucano, insomma, sprechi e tutto quanto, ecco. E poi fino ad arrivare alla questione un po' ultima, no? Dei lavori in corso che vi sono sul viale del Rione Inferiore. Ecco, mettiamo in fila un po' questi argomenti partendo dalla viabilità. Beh, come hai detto tu, Mario, io la viabilità è stata sempre un mio palline, proprio veramente, perché ci tenevo molto, ci tenevo tanto. Ne abbiamo fatte battaglie in passato, forse nella prima legislatura, a cui io mi sono messo all'opera della gente, diciamo in questo modo, perché... Però sto notando che ci sono troppi, c'è troppo... La viabilità a Lauria è sfruttata quasi come la fase tecnica del clientelismo. Diciamo che si aggiustano le vie nei periodi di campagna elettorale, vediamo che sono tutti bravi, andiamo mettendo pezza, questo non è bello. Non è bello anche perché, voglio fare solo un esempio, Io nel corso della legislatura Pitella, ci sono gli atti che parlano, quindi... Fece un'interrogazione sul corso di via Cairoli, che è la parte più bella del centro storico di Inferiore, diciamo che è la parte più bella, forse anche di tutto il paese, perché è una strettoia che c'è, è bellissima. E mi venne detto in Consiglio Comunale dall'amministrazione che stavano facendo i lavori, si stavano facendo i lavori per le case terremotate, per il recupero delle case terremoto, però c'era un impegno dall'amministrazione Pitella che a fine della messaia, in sicurezza di tutte le case, della ristrutturazione delle case terremotate, sarebbe stato un impegno dell'amministrazione di parlare con tutte le ditte e di fare tipo una colletta, diciamo così, di fare un po' per uno e di collaborare a... almeno riasfaltare, sarebbe stato bello fare proprio un'isola pedonale, però almeno di riasfaltare tutto il corso di via Cairole perché non è il problema delle macchine, Mario, perché con le macchine, diciamo, si va. Adesso è diventato un punto pericoloso anche per i cittadini che si regolano per la domenica per andare a messa e rischiano di inciambare, dove io sono inciambato anch'io un giorno. Quindi, e poi, diciamo la verità, se non parte dalle zone più belle del paese, superiore, inferiore, che ci sono dei centri storici bellissimi, se non parte l'impegno dell'amministrazione in quei punti strategici per il turismo, per la gente che viene, diciamo come in un paese così grande le strade sono in queste condizioni, è come quando uno si riega in un ospedale e non è che in un ospedale entra per... è l'ingresso quello che ti fa capire mamma, dove sono capitato? Se invece tu puoi anche avere la struttura che magari è un po' così così, no? Però se tu l'ingresso ti dice mamma mia, che bello dove sono... è la stessa cosa con le strade in un paese. Tu quando arrivi in un paese già te ne accorgi da come puoi essere amministrato, da come puoi essere le condizioni del paese, da come ci arrivi con le strade. Io ho visto... e ti ringrazio di questa domanda perché era un punto... io ho fatto un interpellanza, ho preso un interpellanza un paio di giorni fa sui lavori che stanno facendo e di conseguenza parlerò anche delle strade. Ben hanno fatto sfruttando i fondi dell'autostrade perché con i lavori che hanno fatto con i mezzi diciamo che hanno rovinato le strade, però hanno fatto sfruttare da Pecorone fino a Lauria sembra quasi un'autostrada e andando anche verso Caldo. Però non so se qualcuno transita dal bivio di acqua delle donne a scendere in veriore oppure dalla Melara, so che forse in questi giorni stanno facendo dei lavori, però da scendere da San Crespino, Santa Maria, quella parte là, è vergognoso che un paese abbia ancora... siamo noi 2016 e siamo ancora con queste strade che poi c'è una cosa anche più aggravante perché se adesso si è aperta la bretella il flusso di macchine è ancora più aumentato da questa parte qua. Quindi io penso che la minima cosa, cioè una cosa piccola che uno in amministrazione dovrebbe fare è pensare di vedere dove è più transitata la strada e là intervenire prima. che si devono fare tutte le strade di lavoria per l'amore del cielo, mo' la volta. Però diamo una priorità nei tratti più strategici del paese. Ne va di menso non solo il fatto che questo paese possa rinascere anche dal punto di vista geografico o come vogliamo metterla, però è importante anche perché se si parte col piede sbagliato o fare clientelismo sulle strade in questo modo perché poi in campagna elettorale come ho detto prima, al discorso che ho fatto prima, si vanno facendo le tappe, li vogliono conservare per la campagna elettorale. Allora in questo caso si dovrebbe votare solo a San Grespino. Ormai a Pecorona le strade l'hanno fatte, inoltre che si vota più perché le strade non c'è stata e tutto a posto. Le prossime elezioni devono votare solo quelle di San Grespino. Cioè, questa è la cosa che mi fa un po' rabbia. Poi quando riguarda la Colotto Lucano e noi eravamo con Forza Italia. Purtroppo, voglio fare una piccola parentesi, perché abbiamo certo di fare una nostra civica? La nostra civica è perché noi dobbiamo pensare all'interesse del nostro Paese. L'interesse del nostro Paese significa a noi fare le proposte, fare un programma e allearci con chi fa il bene del nostro Paese. Io a questo punto non mi considero né di sinistra né di destra. io mi considero per quelli che fanno l'interesse di questo Paese. Noi volevamo lanciare delle risposte, delle proposte. Lo faremo anche in minoranza, lo faremo lo stesso. Chi ci fa del bene, quelli seguiremo. Perché ho detto così per l'Acquadotto Lucano? Perché purtroppo prima eravamo in Forza Italia e noi di Lauria tutto il gruppo non voleva aderire a un gruppo così però purtroppo dovevano eseguire delle direttive provinciali e regionali che dicevano dobbiamo aderire e noi purtroppo a malinguore abbiamo dovuto aderire anche noi anche se Francesco Snato era tra quelli che diciamo sbraitava un po' di più e dicevano guarda pensiamoci bene perché non è chiara questa cosa però abbiamo dovuto farlo. adesso siamo in una lista civica per questo questo significa quando parliamo dell'Acquadotto Lucano ormai lo sbaglio è stato fatto cerchiamo di salvare il salvabile noi ci stiamo impegnando di cercare di trovare una via che se si fosse possiamo quantomeno di salvare il salvabile di recuperare quello più recuperabile abbiamo avuto degli incontri telefonici con il sindaco di Saracena che voglio ricordare che è forse l'unico comune d'Italia che è l'Acquadotto che se ne è uscito l'Acquadotto Lucano l'acqua lo gestisce il comune quindi noi stiamo seguendo vogliamo seguire questa strada qua abbiamo chiesto appuntamenti col sindaco di Saracena lo andremo a trovare lo inviteremo anche qua così magari la cittadinanza potrà rendersi conto di come ha fatto lui possiamo seguire anche noi però una cosa ci tengo a dire la cosa più scandalosa è come per le strade per i fondanini è stata una cosa vergognosa già l'Acquadotto Lucano io non capisco cosa c'è di qual è il problema che scorreva l'acqua dei fondanini come lo stesso sindaco ha detto una cosa che a me non mi è piaciuta che dobbiamo finirla con queste fondanine l'acqua è uno spreco che lauria è un paese che frana dalle acque lauria piena di acque è un paese che dobbiamo finire con questo spreco con acqua di rubinetti ci laviamo le macchine ma ci possono lavare anche i pulmi non è questo il problema io non capisco quale danno recava l'acquadotto Lucano l'acqua di rubinetti l'acqua e il pane non si nega a nessuno e inoltre che poi facciamo quelle scenate per farsi vedere nei giorni di festa apriamo il fondanino a San Giacomo l'apriamo alla San non significa nulla l'acqua purtroppo l'acquadotto Lucano non sapeva più dove prendere più i soldi per mantenere i mega stipendi e ha detto beh mettiamo i rubinetti anche e qua l'amministrazione se prima il sindaco Angelo Lamboglia lui se ne esce fuori che dice che io non c'ero incorporito quando è stato fatto l'accordo con l'acquadotto Lucano però adesso potevi dare la dimostrazione ai cittadini che ti impegnavi molto perché le chiacchiere non servono bastava dire no io i rubinetti non te le faccio mettere il condatore ai fondanini non le mettiamo perché l'acqua che scorre se affinché è una cosa che è un privato allora consumo acqua vado a mettere ma l'acqua l'acqua che correga dai rubinetti che spreco era questa è una cosa che anzi la cosa è più strana uno dice sì vabbè non l'abbiamo messa abbiamo messo i rubinetti così però l'acqua è calda l'acqua d'estate è caldissima allora la frubizia dell'acquadotto Lucano infatti mettiamo i condatori così quando devono bere all'estate non devono consumare di più acqua perché per farla riscaldare devono consumare di più anzi se ne spreca ancora di più più adesso che prima quindi quando tu le gira tu fai correre l'acqua perché si deve raffreddare e l'acquadotto l'acquadotto Lucano in quel caso è in gas per quanto riguarda l'acquadotto poi mi hai fatto un'altra questione diciamo proprio di queste ore perché abbiamo visto il cantiere che è stato aperto sul viale di piazza del popolo il viale del rione inferiore anche lì insomma si è consumata si sta consumando una battaglia notevole insomma è una cosa questa me lo lasci dire una cosa vergognosa per un semplice motivo i lavori si potevano rifare si potevano iniziare anche dopo le feste vedere lauree in questo stato con pietre per aria morto perché non ci sono né luce né niente è proprio cioè cosa consisteva aprire il lavoro se proprio dovevo iniziare iniziavano a gennaio o febbraio dopo le feste va bene ma questa è una cosa che posso pensare io magari i cittadini sono pure contenti che dicono basta che si fanno i lavori non gli interessa io e il mio gruppo ti ringrazio per questa domanda perché vorrei precisare una cosa corre voce in giro che noi nel nostro gruppo eravamo quelli che eravamo contro il taglio degli alberi non è mica vero noi nel nostro gruppo essendo persone serie volevamo vederci chiaro sulla situazione perché è sempre una cosa che si fa toccare la storia di laurea per me è come se fosse una storia poi abbiamo cercato di trovare tutti di vedere bene le carte di sentire tutti gli esperti anche a livello comunale a livello comunale c'erano ci avevano quasi convinto che il problema non era degli alberi ma era si poteva risolvere diversamente io a questo punto noi con il nostro gruppo abbiamo abbiamo riflettuto abbiamo fatto una riunione di due ore e mezza su questo solo nostro gruppo senza altre persone e abbiamo riflettuto non possiamo essere io il mio gruppo e decidere se tagliarli o no siamo noi abbiamo ascoltato quello che hanno detto gli esperti gli esperti hanno detto che si devono tagliare se tagliassero però non 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 di 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 roba varia anche con le radici che devono essere un tipo di albero che le radici devono andare profonde perché abbiamo visto qua, quelli che ci sono rimasti sono quelli che hanno rimasto di più il pavimento. Io ho fatto l'interpellanza che ho presentato due giorni fa, ho presentato delle foto, spero che l'amministrazione me ne tenga conto. C'è un albero che si trova vicino al Bar Bermuda che ha sollevato il pavimento. Io, per sentito dire, perché poi sono un esperto agrario, gli alberi che vogliono mettere siano uguali a quelli. Chiederò all'amministrazione in Consiglio Comunale di vedere gli alberi che vanno messi, che alberi sono, perché non è che togliamo i pini che erano alti, che sollevano il pavimento e ci mettiamo altri, che fra 5 o 6 anni il problema è lo stesso, primo. Quindi inviterò l'amministrazione. Ormai avete deciso, tagliate tutti, si devono tagliare tutti gli alberi, perché mi sembra di essere all'asilo. No, taglio solo quello che si può tagliare, quello che non si può tagliare, questo è sano, quello ha problemi. Allora, un'amministrazione con gli attributi deve prendere una decisione. Dice sul taglio si devono tagliare. Io ero pronto a difenderlo se non si dovevano tagliare, ma si devono tagliare perché a questo punto la pericolosità, l'hanno dimostrato, penso che sia la pericolosità, e si devono tagliare tutti. Volevo fare solo un'altra precisazione. Mi piange il cuore, Canomari, mi piange il cuore vedere quella villa di Inveriore ridotta in questo stato. Era così bella, era una favola. Sì, forse effettivamente non c'era tanta ombra, c'era molto sole, ma era meglio il sole che queste bacce che ci sono adesso. Cioè la gente almeno si divertiva, andavano con le biciclette i bambini, c'era la fondana gioca, che non so in quale villa di qualcuno è andata a finire, perché non si sa dove sono andata a finire, con l'albero rossa o quello che era all'inizio del viale, non si sa dove è andata a finire, la pietra tonda, che era l'unica pietra, Mario, non è quella pietra che hanno fatto adesso, era una pietra unica, era secolare quella pietra, non si sa dove è andata a finire, la fondana gioca, non si sa dove è andata a finire. I bambini di Inveriore hanno il diritto, come tutti i bambini del paese, ad avere, se c'è la possibilità, se non c'era la villa va bene, costruirne un'altra sarebbe stato uno spreco, ma visto che c'è, e c'è gente che non può recarsi al superiore, perché quella del superiore è bellissima, ce la invidiano tutti ed è fatta bene, anzi adesso la stanno anche aggiustando, a me non fa altro che piacere, però penso a quei poveri bambini di Inveriore, che non hanno uno spazio dove potessi svagare un po' di pomeriggio, di sera, che non possono salire al superiore, che devono fare? Perché rovinare un bene del paese così grande, le ville, le chiese, le strade storiche, queste sono le cose più belle del paese, che poi il resto si aggiusta, si risfa, le cose da preservare per questo paese sono queste, la gente non è che chiede molto, non è che chiede la luna, chiede quel poco, e io devo fare questa interpettanza perché mi risulta che per la villa di Inveriore non c'è neanche un euro, c'è per il viale, sul viale è un'altra cosa gravissima secondo me, qua pure mi risulta, io ho visto le carte, quello che mi hanno fatto vedere il direttore dei lavori, che è lo stesso pavimento, sono le stesse mattonelle che hanno messo adesso, che fanno solo ridere, nel giro di pochi anni si romperanno anche quelle, è materiale forse il più scasso che poteva esistere, va fatto un bel lavoro come si deve, con la rete sotto perché è modo di salvaguardare, mettere gli alberi con le radici che scendono sotto, gli alberi che non daranno più problemi almeno per vent'anni, e cercare di mettere un pavimento idoneo, che poi non è che solo con gli aghi delle pigne si può fermare un cittadino, si può fermare anche con un po' d'acqua, se il materiale è che scivola perché è in lieve discesa, si scivola lo stesso, quindi lo sforzo una volta va fatto, e fatelo come si deve, perché se no alla fine saremo qua fra dieci anni a ripetere lo stesso problema, e poi si ci fa campagna elettorale sopra, gente che ci marcia, che critica, quindi io ti ringrazio di questa domanda, ma voglio, torno a ripetere, torno a ribadire, che noi, cari cittadini, le chiacchiere che dicono in giro, che eravamo contrario al taglio dei pini, non è mica vero, la loro intelligenza, la loro bravura di questi amministratori, che sono da anni, che sono là, li conosco bene, e di far passare una voce che non è mica vera, una cosa per un'altra, noi siamo persone serie, abbiamo voluto scendere bene nel problema, vedere bene le problematiche quali erano, ci hanno garantito che, ci hanno chiarito, che l'unica alternativa era il taglio, e effetto è il taglio, non è che noi eravamo contro il taglio, no, no, grazie. Ecco, consigliere, questa domanda, diciamo, questo tema, ci permette di aprire una prima parentesi, un po' sulla situazione politica di Lauria, un po' anche sui vari rapporti, sappiamo che, nelle opposizioni, vi è un problema, fino a qualche settimana fa, era una risorsa, adesso è diventata un problema, ci riferiamo alla posizione, del consigliere Raffaele Ielpo, ricordiamo, anche lui, è una parte della minoranza, perché adesso, allora, siamo partiti da due minoranze, poi c'è stata un'unità tra le due minoranze, quindi c'è un gruppo che lavora assieme, però da questo gruppo si è allontanato Raffaele Ielpo, per una serie di dissidi, chi ha visto un po' anche i filmati sui consigli comunali, avrà, insomma, notato anche momenti di forte tensione, in particolare tra il consigliere, Ielpo, appunto, e il consigliere, diciamo, la banca, e anche un po', la consigliera Cresci, per una vicenda un po', che poi, insomma, è stata chiarita, ecco, la posizione del consigliere Schettini, sui rapporti con Ielpo? se andiamo a leggere su Facebook, rapporti non penso che siano tanto buoni, però io, che dire, io, Mario, sui social si scrivono tante di quelle cose, e anche io a volte sbaglio a scrivere, però una cosa è scrivere, mi possono dare tutto, del bugiardo, dell'ignorante, dell'ingapace, ditemi tutto, però, quando mi si viene a dire, io per questo ho avuto un po', non ti rascondo che ero, ero quasi deciso, poi mi hanno fermato quello del gruppo, perché il nostro è un gruppo combatto, ne abbiamo parlato e discusso, ma io ero deciso a andare per via legale, perché sentirmi dire, che io ho a che fare con la polizia, con i carabinieri, io sono una persona seria, non ho fatto mai male a nessuno, potrò avere un carattere brutto, non lo so, potrò essere antipatico a qualcuno, simpatico a altri, ma potrò anche offendere qualcuno, ma non scendo mai, questi li vengono, non ci scendo, e sono stato uno dei pochi, quando in consiglio comunale, c'erano delle arriglie, non so se ricordi, con Francesco e gli altri, il primo a cercare di trattenerla, anche se a volte pure io, Salafogli in esperienza, ti portavo a fare certe cose, che adesso magari uno matura politicamente, e ci riflette prima di fare certe cose, penso che la stessa cosa stia capitando al consigliere Ielpo, sarà una brava persona, per l'amore di Dio, non lo metto in dubbio, però l'esperienza ancora, deve fare un po' di esperienza, deve capire quando sbaglia, quando si esagera un po', lui ha voluto prendere questa decisione, e chi è caso il suo male, pianga a se stesso, come si dice, noi è un bel gruppo combatto, siamo sempre due gruppi, perché siamo una coalizione, diciamo, una piccola coalizione di due partiti, non partiti, ma di due liste civiche, quindi una coalizione civica, diciamo, chiamiamola così, noi purtroppo, quello che abbiamo detto in campagna elettorale, quello stiamo cercando di fare, faremo un'opposizione seria, quando deve essere anche dura, perché a volte la durezza, però dura verbale, nei limiti, nei limiti del possibile, perché poi la legge, la legge ti aiuta fino a un certo punto, poi dopo, se si esagera un po', ne devi pagare anche le conseguenze di quello che uno fa, io in campagna elettorale, quello che abbiamo detto, stiamo cercando di fare, qualcun altro, io, o del consigliere Irpo, non me ne voglia, ma ho visto una campagna spietata con l'amministrazione, mai vista una cosa del genere, i filmati parlano chiaro, molto più aggressiva della nostra contro la lista che era capeggiata da Angelo Lamboglia, poi vedere delle scelte fatte in difesa del personale, proprio del sindaco e del presidente del consiglio, attaccando magari Forestiero, e attaccare noi, tu devi capire una cosa, che l'opposizione la fai tu, la stiamo facendo anche noi, tu cerca di, e mi rivolgo all'amico, Raffaele, che lo stimola, l'apprezzo per quello che sta facendo, però deve capire anche che, l'opposizione si fa in tanti modi, un oppositore che, che attacca l'opposizione, sono pochissimi questi casi, che si vede, poi la gente ne prenderà conto, alla fine, lui, se ne esce sempre che, il secondo eletto, il primo eletto, non so, 650 voti, che poi il primo eletto, mi sembra che, la vice sindaco, è Gagliardi. Lui dice, lui sostiene questo, che al comune di Lauria, questa volta sono stati votati due sindaci, perché, è vero, questo è il tema. A maggior razione, ma sarà il sindaco, un sindaco si lo riconosciamo, l'opposizione non riconosce, deve avere un altro sindaco, mi dispiace, noi siamo oppositori, l'oppositore è anche lui, almeno, teoricamente, poi praticamente, parlano gli atti filmati, dei consigli comunali, anche se io apprezzo, apprezzo quello che fa l'amministrazione, quando posso astenermi, posso non votare contro, ma no, elogiarlo, cioè, a questo punto, la gente non è stupida, certe cose le vede, quando deve attaccare l'opposizione, l'amministrazione l'attacca in un modo, e sembra che, quando deve attaccare gli amici dell'opposizione, che sarebbe la cosa più sbagliata, l'attacca ancora più aggressivo, di quando attacca la maggioranza, allora, potremmo essere buoni, sì, stupido, ma mi consenti proprio, ma festi, no, cioè, lui ha deciso di fare questa, questa sua scelta, ben venga, io gli auguro tutto il bene di questo mondo, però, e poi sarà la gente, a capire chi, chi fa l'opposizione in un certo modo, e chi in un altro, noi abbiamo, ognuno nel nostro gruppo, c'è chi ha più esperienza, tipo come me, magari un po' più in sanità, un altro ha più esperienza, nel campo, nell'edilizia, chi nel campo scolastico, noi ci stiamo dividendo i combiti, lui è stato così bravo, da staccarsi da noi, perché potevamo essergli d'aiuto, anche noi, alle prime armi, di aiutarlo, ha voluto prendere questa decisione, prendesse questa decisione, ognuno fa la libertà, questa è la libertà, a differenza di come è stato, per esempio, con il referendum. Ecco, parleremo anche di questi argomenti, però, fammi aprire una parentesi, Nicola, tu sei noto, diciamo, a laurea, insomma, per il tuo impegno politico, anche per la tua professione, sei, insomma, considerato tra le persone, anche più disponibili, più generose, ma anche quando eri un po', sei giovane, ma quando eri un po' più giovane, insomma, eri sempre in prima fila, insomma, in tante cose positive, e, insomma, viene definito un po' una persona di cuore, no? Quindi una persona che si emoziona, si commuove, no? E, perché dico quei, perché ho fatto questa premessa? Perché nelle ultime settimane, tu e tante persone come te, hanno perso un amico importante, tra l'altro, noi ti ringraziamo pubblicamente, perché ci hai aiutato a fare una piccola cosa, avremmo voluto fare qualcosa di ancora più importante, però cogliamo questa occasione per ricordare il dottore Larrocca, al quale sappiamo, sappiamo, insomma, quale amicizia avevi con lui, ecco, se possiamo dedicare qualche minuto a questa persona, un ricordo tuo personale, appunto. Non è semplice, perché Michele era come un fratello per me, io penso che la parola, quando uno studia medicina, la cosa più importante non è neanche la bravura tecnica di un operatore, perché poi con l'esperienza arriva con l'esperienza, ma l'umanità e la volontà di fare bene per gli altri, non si insegna a scuola, penso che ce l'hai dentro di te, è una cosa che nasce dentro, che ce l'hai da quando sei nato. Michele era, ma non solo Lauria, il Lagone Grese, ma a Potenza, chi ha avuto modo di conoscere Michele, ha avuto la fortuna di conoscere una persona speciale, Michele era uno che, di a volte questo, mi dispiace, perché per gli altri la faceva tanto, si buttava nel fuoco, e chi ha avuto modo di conoscere, come dicevo prima, avrà capito chi è, se ricorda chi era Michele, purtroppo lui si è un po' si è un po' trascurato, forse a volte si è trascurato anche perché non pensava a se stesso, pensava molto agli altri, era amato nel sociale, era amato nello sport, nel campo lavorativo non ho parole Mario, perché io, a parte il fatto che sono stato uno dei primi a averlo conosciuto come come laurioto, diciamo, da quando ho venuto a stare la laurea, quindi per me la famiglia, siamo pure, mia moglie ha trascimato la prima figlia, quindi ci lega un affetto un po' particolare, per me, io ho avuto una patologia che, non sto qui a dire, l'intervento che ho fatto, lui è stato per sei mesi, caro Mario, sei mesi, se avrà saltato una serie, quattro o cinque serie, non di più, tutte le serie da casa mia, a medicarmi, sono cose che segnano, io spero solo di, poi ci lega un'altra cosa, con la moglie Clementina, a pensare che siamo nati, vedo un po' come ci lega, a volte la storia, la vita come fa, è strana, io e Clementina festeggiamo lo stesso giorno, di nascita, lo stesso mese, lo stesso anno, siamo nati, il 23 maggio, 60 sia io che lei, quindi, ed è una famiglia stupenda, ha quattro figli, che sono uno più, più stupendo dell'altro, sono brave, educate, e, che dire, l'asl, l'auria, tutti, hanno perso una persona fantastica, Michele, voglio salutarlo, Michele, che resta sempre, nei nostri cuori, si è stato grande, Grazie, grazie Nicola, anzi, forse ci scusiamo anche per aver approfittato di questo momento, ma ci tenevamo a sottolineare, Contenso, ecco, questa persona che è nel cuore di tanti. Stiamo, diciamo, in questa intervista sono ancora tante le questioni che dobbiamo trattare, magari ecco, più brevemente, ma cerchiamo un po' di trattarle tutte, allora, rimaniamo sulla sanità, parliamo ovviamente, un po' delle questioni che, noi siamo freschi di, di consiglio comunale aperto al Lago Negro, stiamo seguendo bene la vicenda dell'ospedale, insomma, ecco, c'è un clima arroventato, soprattutto, tu lo sai meglio di chiunque altro, perché sei anche un operatore, sei un addetto ai lavori, nel campo della sanità, c'è questa idea di riordino sanitario, che è un po', croce e delizia, no? Un po' viene vista come la, la via di fuga, la possibilità di salvare il salvabile, rispetto a delle norme che vanno a creare problemi alla sanità, dall'altro lato viene visto invece proprio come la, come si dice, la decapitazione, addirittura, insomma, ecco, della sanità nel nostro territorio, ecco, qual è la tua posizione? Ti dirò due o tre cose, uno, riguarda proprio la, la riorganizzazione, perché ancora forse non è uscito neanche il nuovo piano sanitario regionale, per sentito dire, parlo, perché poi chiedo, chiedo ai miei superiori, ai sindacati, quello che sa dirmi qualcosa di più concreto, purtroppo l'altra sera, mi rammarico, non sono potuto andare al, al Lago Negro, dove è stato presente, è Mariano Labanga, Francesco Snato, la consigliere Cresce, e poi mi hanno detto più o meno, quello di quello che si è parlato, la sanità è un'azienda, l'azienda sanitaria, questo si chiama azienda, dovrebbe, per far tornare i conti, ogni anno, dovrebbe fare un calcolo più o meno su, sui vantaggi, gli svantaggi, gli sprechi, e invece le cose utili che sono state fatte, quello che, la prima cosa dopo si fa, non me ne vogliono gli amministratori regionali, ma perché, l'ho sempre detto, da quando c'era Pubblico, De Filippo, adesso c'è Pitella, la cosa che si va a risparmiare sulla sanità, è sempre sui più deboli, e sì, bisogna farle dei tagli, perché, viviamo in una situazione, un po' di crisi, e su tutti i settori, aveva cercato di fare un'analisi, di cercare di togliere di più da una parte, e metterla da una parte dove magari c'è di meno. Io, l'altra sera, da come mi hanno detto, io spero di sbagliarmi, è stata la presenza del Presidente della Regione, Marcello Pitella, dove, mi sa che è andata a fare un'altra volta, un'altra piccola campagna elettorale, promettendo l'impromettibile. io voglio che, chi riveste ruoli importanti, carichi importanti, deve assumersi la responsabilità, delle cose fatte, delle cose promesse, di quelle che si potrebbero fare, e quelle che non si possono fare. Prendere in giro, dopo tanti anni, che sono forse 20 anni, sull'ospedale unico, che addirittura, io mi ricordo che, l'ospedale Nugro, l'unico era nato a San D'Alfonso di Lauria, e poi, ne abbiamo discusso, come penso che, qualsiasi amministratore di Lago Negro, avrebbe fatto la stessa cosa, con Lauria, se era destinato a Lago Negro, perché lo dovevano spostare a Lauria, e viceversa. Noi abbiamo cercato di fare la nostra battaglia, come amministratori locali, del nostro paese, all'epoca, il Sindaco Pitella, disse, testuali, parole, dobbiamo smettere, di fare questo campanello, campanellismo, perché non porta nessuna parte, fa solo del male, però, queste parole, le sento dire, sempre quando devono togliere qualcosa da Lauria, quando devono portare qualche servizio, qualcosa da Lauria, le parole, il campanellismo, gli altri, non se ne parla per nessuno. Cosa voglio dire sulla sanità? Purtroppo, si rischia, si rischia che si fanno sprechi enormi. Adesso, ultimamente, stanno cercando di organizzare anche per esempio l'area distrettuale, perché la sanità è sia aziendale, sia ospedaliere, che distrettuale. Il futuro, secondo me, sarà tutto territoriale, distrettuale. Io così la immagino, questa, la sanità. E quindi, purtroppo, deve avere, si devono fare dei tagli dove ci sono i doppioni. e inoltre fare una chirurgia a Chiaromondo, una chirurgia a Lago Negro, una chirurgia a Viladagri, dove non lavorano l'uno, nell'altro, l'altro, sono solo gli sprechi. Cercare di accorparle, vedere dove c'è più la necessità. Magari una traumatologia andrebbe bene, oltre al pronuncio costattivo, che secondo me, deve restare a Lago Negro, perché, adesso, farne un altro, spostarlo, sarebbe la cosa più sbagliatissima che si potrebbe fare. Funziona bene quello di Lago Negro, per, come pronuncio costo, migliorarlo. E toglie qualche servizio che magari, a fine anno, non produce. Hai capito? Queste sono le cose che bisognerebbe fare. Però la cosa più grave, quando si viene a parlare di sprechi sulla sanità, gli sprechi non vanno visti solo negli operatori o nei servizi. Gli sprechi vanno visti anche nelle aree dirigenziali e manageriali. Forse la Basilicata è quella regione che ha più dirigenti e manager che in tutta l'area. Io non posso dare, non farò nome, ma se qualcuno vuole andare a informarsi bene, vado a prendere, vado agli uffici di competenza e vedranno quanti manager e servizi. Io parlo proprio di laurea, a laurea, se andiamo a vedere tutto il personale, più del 50% sono tutti gente di referenti amministrativi, dirigenti, è il personale che è più umile, che sta più vicino a contatto con la gente, quello che il paziente lo conosce da vicino, lo tocca con mano, diciamolo, riesce a capire più quello di cui ha bisogno il paziente. Sono gli operatori a iniziare dall'usiliario, dall'invermiere, anche dal portandino. Però si pensa solo a dare mega step perché poi sono a parentesi, volete salvare la sanità, togliete la politica dalla sanità, si risolve subito. purtroppo sappiamo benissimo che la maggior parte in Basilicata, io ho parlato della nostra regione ma penso che in tutta Italia sia così, la maggior parte dei politici, la maggior parte, poi ci sono anche altri tecnici, sono tutti medici, medici che usano i pazienti nei momenti per fare la loro carriera politica, gli danno un contendino, fanno qualche visitina, le fanno qualche ricoverino, lo fanno accelerare, lo fanno mandare a prima, è uno strumento per fare politica e la sanità speciale nella nostra regione che forse supera tutta Italia e questo è cosa sbaglio. Andiamo a vedere i tagli dove ci sono, per esempio quando c'è stata la riduzione da 5 ASL e sono diventate 2, se prima avevi 5 dirigenti adesso ne hai 2, non è così, tu prima avevi 5 dirigenti e funzionavano 5 servizi in 5 posti diversi, adesso li hai raggruppati, c'hai 5 dirigenti, non ne hai più 2, ne hai sempre 5, e ne paghi per 5, non è che dici allora devi avere il coraggio di tagliare sui servizi, devi tagliare anche i dirigenti, mandarli a casa, perché la politica ce le mette i dirigenti, i manager, i presidenti, i super stipendiati e la politica deve mandarle anche a casa, se no è troppo facile agire così, è troppo facile, è la cosa più sbagliata che possa esistere, la sanità è un bene di tutti, e poi un appello voglio dirlo proprio da chi, un presidente di regione che è un medico, è stato paziente, è stato salvato, lui ha detto l'altra sede che Lagonecro l'ha elogiato che è stato il primo impatto con l'ospedale, però la gente lo sa certe cose, io mi riferisco all'amico Marcello Pittella, la gente lo sa, se è un presidente di regione, anche se fosse stata la migliore struttura di Milano, per dare un esempio, per far capire ai cittadini che la nostra sanità funziona, anche se tu sapevi benissimo, il presidente sapeva benissimo che purtroppo dovevi subire purtroppo io non lo auguro a nessuno, però non hai dato un bel esempio andando a Milano, questo voglio dire io, se per gli altri cittadini, la povera gente il massimo che deve offrire questa regione è quello di andare a potenza, è un libero cittadino che potesse passare, avere la sfortuna come io, mi dispiace per il presidente, non doveva succedere quello che è successo, però un libero cittadino comune che avrà la sfortuna di subire quello che ha subito il presidente della regione non può regarsi neanche al Lago Negro e non può andare a potenza, perché lui deve accontentarsi di potenza e non può andare a Milano? Allora tu in questo caso devi voglio che la sanità di potenza sia l'eccellenza, l'eccellenza deve essere per tutti, non solo per pochi dette eccellenze e poi diciamo che l'eccellenza uno bisogna andare via e chi c'è la possibilità di andare fuori lo fa, chi non c'è la possibilità si resta qua e si deve accontandare quello che trova, quindi uno sforzo in più chiedo al nostro coordinatore regionale, il presidente della regione Basilicata, chiedo di mettersi la mano sulla coscienza di fare in modo che adesso che parte il nuovo piano sanitario regionale lui come presidente con i dirigenti dell'ASP di potenza si mettesse una mano sulla coscienza e vedere dove cercare di fare i tagli ma non iniziando da piccolo ma secondo me bisogna iniziare dall'alto verso in basso e vedrete che la sanità recupera fondi e migliori servizi. Ecco consigliere chiaramente questo tema insomma meriterebbe ore e ore però alcune cose sono state dette un'altra questione che ti sta particolarmente a cuore è quella legata al referendum dove insomma Lauria in maniera evidente anzi evidentissima ha votato per il no ecco anche in questo caso una tua riflessione sull'esito referendario la riflessione è semplice diciamo facilissima il popolo ha detto no ha detto no agli abusi dell'imposizione di questo governo non di questo attuale che è la copia del governo Renzi diciamo che la cosa che mi è toccato di più è vedere che la gente è più del 60% ha detto no ma non ha detto no a questo ha detto no a questo tipo di politica sull'immigrazione ha detto no all'istruzione della costituzione ha detto no al governo Renzi ha detto no a alcune prese di posizione a livello nazionale che mi sembra di rivivere la dittatura quando c'era un livello del fascismo non si deve la gente ha detto no per questo e la cosa che mi fa rabbia è vedere che il menefreghismo rifacciamo un governo nuovo la Boschi e Renzi ci sono i video che parlano ci sono le interviste che parlano e hanno detto che se vincevano no questo non aveva più senso andare avanti perché il loro progetto era fallito quindi rimettevano tutto nelle mani del popolo dei cittadini è logico che ci sono due cose da fare e rivedere la riforma elettorale la nuova legge elettorale è da rifare perché così neanche io la condivido io sarei proporzionale però va fatta subito la riforma e si deve andare subito a votare perché i cittadini non possono più subire un quarto governo non eletto ai cittadini poi vanno se la prendono con il centro-destra il centro-destra non ha mai avuto un governo che a me risulta non ha mai avuto un governo fatto dal presidente del consiglio mai l'ultimo governo eletto dal popolo è stato quello Berlusconi e il governo centro-sinistra non dobbiamo dimenticare che anche anche con il governo D'Alema non è che è stato votato dal popolo il governo D'Alema era stato non so per quanti mesi quindi ha dato un segnale forte a questo governo che doveva cambiare io mi auguro che quando prima si vada a dire la possibilità al popolo di potersi eleggere un governo che magari li vince un'altra volta il centro-sinistra secondo me da come stanno muovendo le cose li stanno consegnando su un piatto d'argento al centro-destra la possibilità di andare al governo per le prossime amministrative nazionali ecco consigliere chiudiamo con l'impegno ovviamente che ci risentiremo poi ti seguiamo ogni volta anche nelle sedute di consiglio dove evidenzi un po' ecco i tuoi punti di vista tra l'altro ci hai anticipato che vi sono delle interrogazioni interpellanze quindi insomma ci sarà tanto ancora da parlare ma rimanendo sulla politica tu sei stato un berlusconiano della prima ora insomma hai seguito un po' insomma le vicende di Silvio Berlusconi probabilmente forse ce lo dicesti pure in una intervista insomma sei rimasto anche un po' leggermente deluso da alcune cose ecco però al di là di questo tu hai sempre rappresentato un po' nel popolo insomma la persona che ci metteva il petto no diciamo immaginando un po' un tuo impegno si potrebbe dire che ecco tu diciamo idealmente potevi essere molto vicino a Di Pietro potevi essere molto vicino ai 5 stelle e invece mi pare c'è parso di capire soprattutto nell'ultimo periodo che insomma hai un'attenzione ecco particolare per un nuovo movimento un nuovo partito che poi ha già forse un paio d'anni un anno e mezzo due anni di vita forse anche qualcosa in più e cioè il movimento legato a Fratelli d'Italia che ha anche una bella rappresentanza in Basilicata ricordiamo il consigliere regionale Rosa ecco è questo il tuo approdo adesso se dovessi scegliere se dovessi scegliere in questo momento sì a me piace molto la politica di Giorgia Meloni perché sono un po' stato un po' deluso anche del nuovo centrodestra a parte le lezioni interne tra Fitto poi Alfano Verdini gente che ha masticato si è fatta l'esperienza politica in centrodestra e poi ha preso a proprio interesse altre vie sì è successo anche con la Giorgia Meloni che era con Forza Italia stato ministro con il governo Berlusconi però da quando se ne è uscita il governo Berlusconi è sempre stata quella linea che ha seguito è la linea che ho sempre condiviso anche con l'alleanza con Salvini non la vedo male dobbiamo finire di fare queste piccole retroscene o Salvini della Lega la Lega era la Lega di Bossi e la Lega del adesso non mi viene neanche in mente il nome di un altro esplomento della Lega Calderoli Speroni guarda a volte l'amnesia fa brutti scherzi vabbè comunque la Lega non era mai arrivata in Sicilia la Lega non era mai arrivata in Buglia in Galambia in Basilicata la Lega è una Lega Nord ma è la Lega di Salvini è un'altra Lega è diversa e poi a me che mi si venga a dire che non devo dovrei fare campagna elettorale perché Salvini è del Nord e perché scusate ma Renzi è del Sud non lo vedo proprio un meridionale a Renzi neanche tutti gli altri rappresentanti del governo e abbiamo visto gli esponenti della nostra regione a livello locale cosa ci hanno rappresentato quindi io ma per tanti motivi nella lotta contro l'immigrazione per quanto riguarda il potenziamento regionale perché quel governo tornando al referendum prima era solo un concentramento a livello nazionale a livello del governo nazionale perché poi si diceva le regioni non avevano più voci in capitolo i senatori non venivano tornavano ogni mese ogni anno due anni perché non è che i senatori si votavano come si votava il governo o i deputati ogni volta che si votava a livello regionale cambiavano il senatore facevano un via vai uscite poi magari c'erano i senatori che venivano i sindaci eletti senatori i sindaci non eletti andavano dicendo ma si aiutami qua perché tu hai l'immunità e non ce l'ho la gente forse non ha riflettuto su queste cose e poi il potere a livello se Renzi decideva di mettere il governo Renzi vinceva il sì decideva di mettere le scorie a Metapondo in Basilicata senza se e senza ma venivano li mettevano le venivano a piazzare gli incendi di Torre lo bavario e il popolo non era più sovrano purtroppo e me stanno facendo come facendo così e ancora il popolo non è sovrano perché hanno continuato a mettere un altro governo copia cambiando solo qualche nome addirittura adesso Alfano prima forse Alfano prima li telefonava le barche per far rilevare in Italia adesso come ministro degli estri se lo va a prendere direttamente lui congetemi questa battuta e per questo dico l'unica io purtroppo non mi ci rivedo nel centro-sinistra mai io purtroppo ho fatto uno sbaglio quando ho fatto l'amministrativa scorsa l'altra legislatura per amore della patria diciamo degli amici dovevo fare una lista pure col centro-sinistra che poi l'abbiamo persa non abbiamo perso neanche un consigliere però la vedo molto 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 più di prima perché non esiste più nel centro-destra nel centro-sinistra i veri centro-destra di una volta non esistono più adesso si distinguono centro-destra dal centro-sinistra per dire come se fosse la Juve e il Milan fanno una gara chi vince più scutetti perché 5 Stelle non ti ha affascinato perché torno a dire insomma tu sei una persona che può incarnare alcuni aspetti dei 5 Stelle insomma perché parto da un presupposto perché sono alcune cose non li condivido su alcune cose non condividibili per esempio il reddito di cittadinanza è l'unica cosa che condivido però non condivido il fatto che io l'altra volta ero quasi tendato volevo provare questa esperienza mi è stato subito bloccato anche io non ho mai amministrato io non ho mai amministrato ho fatto sempre l'opposizione tu hai già avuto l'esperienza politica non puoi andare da nessuna parte con noi devono essere gente nuova e a me questo è una cosa sbagliata che poi si vede la gente nuova dove arriva ci saranno brave persone pure con loro però ci sono di volta faccia in tutto perché i partiti stanno cambiando tutti anche nel 5 Stelle gente che è uscita gente che ne è entrata in 5 Stelle nessuno è solo che è uscita e poi si parlava di Berlusconi quando diceva che era l'unico a comandare era solo Berlusconi ma qua mi risulta che la stessa cosa sia solo Grillo possono dire quello che vogliono però stanno dimostrando che quello che dice Grillo quello si deve fare e a me non piace così Nicola ritorniamo a Lauria e concludiamo con questa domanda legata un po' al tuo rapporto con diciamo nel Consiglio Comunale quindi nel tuo impegno politico quotidiano un pregio e un difetto dell'amministrazione comunale attuale ecco dove vedi qualche elemento positivo e invece dove vedi un po' insomma la negatività o comunque le carenze e chiudiamo così questa intervista dell'amministrazione dell'amministrazione e i difetti potrei arregarli parecchi appunto per questo loro noi noi siamo abbiamo visto più di qualche volta qualche forte scontro verbale assolutamente verbale con il sindaco che poi alla fine ci siamo stretti pure la mano ma a volte io ho cercato di la prima cosa quando mi sono rimesso in politico ho detto devo controllarmi quando vado in Consiglio Comunale fammi contare fino a 10 però con le cose Massimo scusa Mario mi hanno dato un po' fastidio sto cercando di essere quanto più tranquillo possibile di essere cortese con gli altri però notare che quando l'amministrazione il sindaco e gli altri dicono cose che veramente farebbero ridere e io nel rispetto di tutta la Sisi resisto e vedere che un mio compagno di gruppo o io facciamo un intervento del sindaco ride si gira le spalle con gli assessori come se fosse e là questa è mancanza di rispetto nei miei confronti e là una volta due volte poi è successo quella sera che mi auguro non succeda più però positività positività di questa amministrazione la vedo solo nel sindaco che gli altri tutta la giunta possono dire quello che voglio comanda solo il sindaco gli altri assessori non contano nulla dal mio punto di vista l'impressione mia quello che ho avuto modo di capire sono messi lì per caso devono fare però chi decide è sempre il sindaco mentre con le altre vecchie amministrazioni c'erano a volte amministratori e assessori che condavano dicevano la loro invece su ogni cosa importante non risponde non risponde l'assessore a ramo risponde sempre il sindaco vedo un po' più vispa o più diversa dagli altri il vice sindaco Gagliardi di buono cosa potrei dire la loro coesione sono tutti tutti uguali la cosa sbagliata non è che ci sia sbagliato solo un assessore no l'hanno sbagliato di tutti perché là è una famiglia per loro sono tutti uguali a differenza di chi voleva ti ho fatto l'occhiolino perché di chi voleva che durasse poco questa amministrazione mi sa che durerà durerà questa amministrazione perché a volte non riesco a capire fin quando c'è aggregazione tra il PD i socialisti e il partito del sindaco che era Nacona è l'appendice del PD che era realtà Italia non riesco voglio ancora non saprei neanche tanto esprimo voglio ancora cercare di capire fino a che punto sia l'indreccio o o lo streccio diciamo che riescono a rompersi là secondo me è una questione che neanche il coordinatore regionale c'era riuscire a farlo perché questo è stato un'altra il presidente tu dici coordinatore il presidente regionale il presidente regionale mi scusa secondo me non è non è semplice perché non è semplice neanche farlo cadere questo ancio perché lui è furbo sta a nostro modo sbagliato ma nei confronti degli altri partiti degli altri alleati sta lavorando bene non sarà una pietra facile per il centro-sinistra togliere solo di mezzo perfetto allora chiudiamo siamo sotto il periodo natalizio insomma il consigliere Schettini insomma ha dato un'opinione sull'attuale amministrazione ma diciamo soprattutto ecco abbiamo parlato di tanti argomenti importanti avremmo potuto davvero spaziare tantissimo ci è sfuggito parlare un attimo dell'acqua di fiumicello che pure è un'altra di quelle storie importanti della nostra città la bretella insomma tante cose e tante situazioni però ecco chiudiamo in positivo sapendo che poi dal primo gennaio si riparte credo forse consigli non ne sono più previsti penso a gennaio si ripartirà nuovamente ecco anche questo Nicola un po' i consigli comunali no? ce ne sono un po' di meno rispetto a un po' di anni fa forse c'era insomma un po' la gente viene ecco per esempio è venuta in occasione dell'arrivo dei profughi dalla Siria ecco però in momenti particolari continua a non esserci una grande attenzione per la politica se non in alcuni momenti particolari ecco salutiamo comunque ne parleremo di questi argomenti ecco salutiamo ecco come ecco magari una domanda non banale può essere questa alla fine e come ricorderai il 2016 ci è parso di capire sicuramente con questa grande tristezza per questo amico perduto almeno fisicamente ma sicuramente nel cuore e più che vivo è più che reale insomma ecco però ecco cosa ricorderai di questo 2016 ricorderò a parte dal punto di vista climatico è troppo caldo ricorderò la mia diciamo la mia rinascita politica con questo bel gruppo gruppo combatto che veramente guarda la gente forse non ci vede molto insieme non ci accorgere siamo un bel gruppo ci confrontiamo molto a volte anche con con diciamo qualche litigio interno però poi alla fine e poi cosa posso ricordare tra te e osnato chi si arrabbia di più tra me e osnato la bella guerra tra me e osnato si arrabbia di più mariano la banga no diciamo scherzo Francesco è come un fratello per me un amico peccato che poche persone riescono a capire il grado di preparazione di Francesco il livello di preparazione è la voglia che ci sta mettendo insieme al nostro gruppo in politica però saranno i fatti a dimostrarlo della sua capacità lo stesso mariano domini le belle esperienze che abbiamo avuto finalmente una donna di questo mi ricorderò ti ricorderò il bello del 2016 le donne in politica dal vice sindaco al presidente del consiglio agli assessori alla nostra domenica cresci che è una ragazza guarda non la conoscevo sotto questo punto di vista si impegna molto vuole capire vuole cercare di imparare chiede sempre a volte chiede a me che non è che ci abbia tanta esperienza però la vedo molto preparata per il futuro io la vedo come un buon futuro politico per lei perché si impegna molto e poi che dire oltre alla parte brutta come tu hai ripetuto di questo 2016 che è una cicatrice che è indelebile e preferirei non parlarne molto perché poi ti senti un po' e posso ricordare diciamo così la breterla come fatto positivo dopo 34 anni la breterla e poi l'endusiasmo dell'agenda che io torno a ripetere non credevo di raggiungere questo risultato politico devo dire grazie a tutta la gente perché non me lo sarei mai aspettato spero solo di avere la capacità io l'impegno ce lo metto sempre però purtroppo il lavoro mi ruba molto tempo a me il lavoro non sono un libro professionista che magari riesce a trasferire degli giorni un altro giorno più libero io sono impegnato sei giorni su sei quasi sul lavoro cerco di in un momento di tempo libero di dedicarmi ai cittadini che mi hanno dato questa possibilità di rappresentare a livello comunale aspetto aspetto risposte io una volta mi ricordo quando nel 2001 mi chiedevano sempre Nicola proponi questo Nicola interessati di questo Nicola adesso noi diciamo che forse non c'è quella grinda ma neanche i cittadini ti chiede ti chiede molto di impegnarti per una e quindi inviterei più cittadini vi voglio bene tutti tutta la oria perché io sono un consiglio d'opposizione ma sono un consiglio d'opposizione di Selucci della Melara di tutta la oria a me chiede noi il nostro ruolo di rappresentarvi in consiglio comunale e di lanciare le proposte che magari possono essere sottovalutate dall'amministrazione noi li prenderemo e li porteremo in consiglio comunale ma dovete essere voi cittadini a proporli magari perché noi non è che possiamo vedere tutto però tante cose ci sfungono voi siate più presenti con noi anche in consiglio comunale e noi siamo ben lieti e bian felici di rappresentarvi e di portare avanti un consiglio comunale alle vostre proposte da questo punto di vista meglio o peggio è stato meglio o crea problemi l'avvento di facebook che non c'era nella tua prima parte della tua esperienza politica sia positivo che negativamente i social adesso diciamo che la politica tramite i social riesce a fare molto riesce a fare molto però a volte si scrivono tante quelle cose inesatte su facebook mentre nelle assisi dove c'è il consiglio comunale la gente che deve partecipare che non dico che non partecipa però diciamo che vediamo quasi sempre i soldi volti nella stessa del consiglio comunale là si dice la verità non si può dire che sia sbagliata o buona è la verità sui social si può dire di tutto o di più l'avvento lo vedo 50% positivo e negativo perché non saprei dire dare una per alcuni non lo so alcuni dicono che con i social si comunica di più scrive sui social io preferisco dare un giudizio magari si ma partire di tipo come abbiamo fatto un'intervista stasera o fare la domanda sui social secondo me la vedo una cosa un po' troppo rischiosa perché qualcuno ne approfitta perché poi sui social sappiamo benissimo che ci sono dei profili falsi ci sono degli account falsi che potrebbero danneggiare molto io limiterei la politica sui social la limiterei proprio perché la reputo un po' troppo pericolosa c'è una grande confusione alla fine le notizie non si sa se sono vere false è un minestrone certe volte davvero inestricabile consigliere noi ti ringraziamo ti salutiamo ti facciamo gli auguri e ci rivediamo sicuramente agli inizi di gennaio magari con la riforma sanitaria fatta quindi con tante battaglie che si potranno ancora fare grazie nel salutare te Mario nel ringraziarti mi scuserò se con tutti gli ascoltatori perché io purtroppo è la nascita che mi ha fatto così parlo un po' veloce dovevo farmi seguire da un logopedista da piccolo non l'ho fatto e adesso ne pagate voi le conseguenze che devo dire spero di essere stato abbastanza esplicito nel farmi capire quello che volevo dire ma poi avremo un modo di farci capire meglio magari faremo altre interviste mi correggerai perché il comodo di un operatore come in questo caso sei tu Mario è anche di correggerci e questo non è male vi voglio voglio solo dire all'amministrazione dell'Eco a tutta l'amministrazione che la ripeto la cosa importantissima per l'Auria gli faccio un grosso in bocca a lui a Mario di avere sempre tanto successo perché se lo merita davvero voglio dire per tutti gli amici e non solo di Lauria di fuori dei miei cittadini del mondo perché qui ti vedranno pure in Bransile ti vedranno per quelli di fuori anzi se mi vede mio zio da Bustarsizio forse lo saluto zio Domenico o mio fratello che sta alle Canarie quindi di cosa posso dire buon Natale che sia vi auguro di trascollo con le persone più care che voi possiate avere di un Natale prospero di belle cose le cose brutte magari vengono speriamo che se le porta via questo 2016 a differenza del 2017 che dovrebbe essere il 17 non è un bel numero magari sia più sia più più prospero dal punto di vista della salute sia più economico per tutti che porta dei vandaggi che sia solo pieno di felicità felicità tanta felicità e rispetto per le cose belle che la vita ci riserva in futuro buon Natale buon anno a tutti grazie 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 grazie